Buongiorno a tutti, sono Alberto Ragoni dall'Hotel Eden di Roma. Il piatto che ho rivisto per il concorso di pastificio dei campi si chiama Red Ruby Black. L'ho utilizzato alla mafaldona di pastificio dei campi e l'ho voluta rendere l'attore principale del piatto con due salse diverse di pomodoro, una salsa nera alla base di pomodori fermentati all'uoco e caramellati e una salsa di pomodoro crudo ridotta a bassa temperatura da mettere all'ultimo sul piatto. L'idea mi è venuta dal packaging del pastificio dei campi che ho trovato veramente geniale nei colori e quindi in questo caso ho voluto fare un omaggio cromatico al contenitore della pasta e rendere la pasta attrice principale di questo piatto. Utilizzando le nuove tecnologie che il settore ci permette, ho utilizzato il pomodoro, ho distillato i raspi e ho ridotto il pomodoro crudo in una salsa molto fresca.